Oggi parliamo di aste. Esiste un mondo parallelo alla compraventita immobiliare che è quello delle aste giudiziarie immobiliare. Purtroppo non tutti conoscono le regole del gioco e si avventurano in questo mercato convinti di poter fare con semplicità l'affare. Ed è proprio in questo segmento di mercato che diventa essenziale e importante la figura di un professionista e chi meglio della gente immobiliare, ovviamente adeguatamente formato e preparato, che agirà con competenza nella qualità di consulente esperto e nonno di mediatore. Oggi è anche possibile richiedere un mutuo per comprare una casa all'asta e noi nella famiglia FIAIP abbiamo Siria Finance che può rendere possibile tutto ciò grazie agli accordi simulati con diverse banche che hanno nel loro core business anche il finanziamento dell'immobile all'asta. I crediti degli immobili che vanno all'asta prima di arrivare a quest'ultimo step vengono svalutati e questa svalutazione si traduce in saldo estrarcio, ovvero la possibilità di un accordo, di una mediazione che soddisfi il creditore, altrimenti dovrebbe affrontare costi e tempi relativamente lunghi senza nessuna certezza di totale recupero, considerando che ad ogni asta il prezzo di valutazione subisce un depreciamento del 25%, ma soddisfa anche il debitore il quale con una somma notevolmente inferiore, a volte anche del 50%, risolve il proprio debito ritornando trascorsi due anni ad essere un soggetto finanziabile. Queste tipologie di vendite, asta e saldo a straccio necessitano obbligatoriamente di professionalità, competenza e conoscenza del mondo immobiliare.